Secondo tempo della sfida tra i Polo Sud e i Furius, il punteggio vede il Polo Sud condurre per 4 reti a 1 Oggi ai commenti tecnico abbiamo un ospite d'eccezione, il buono Giuseppe Conenna Un attimo solo, c'è un calcio d'angolo, prende palla, prova la bomba, fuori di poco Termina fuori, guardiamo Conenna, ospite d'eccezione, il suo ritorno da Roma è sempre ben accetto A volio, prova a partire di Riso, di Riso, fresco di occupazione a San Nazaro, piove sempre più forte qui sui campi del torneo Prova ad andare Mangoni, a fermare l'avversario, il pallone che viene combattuto da Silignano, il capitano Valla che termina fuori, di Riso, ancora il pallone che viene imbattuto